Quest'oggi presenteremo un emerito lavoro dell'istancabile scrittrice ad Alpina Fabra Bignardelli. Il volume con la prefazione del professore Tommaso Romano, edito dalla Tule, ha una corposità di ben 290 pagine, è corredato con foto d'epoca e nell'intenzione dell'autrice rappresenta un atto doveroso come quello di servire la storia. E servire la storia non è solo ricordare i fatti, ma soprattutto trasmetterli. E aggiungo io, così come sono avvenuti senza manipolazione alcuna. Come erano per gli antichi romani, se ricordate, gli acchi da diurna e poi tutto quello che avveniva veniva trascritto negli annali. E il mezzo più idoneo perché ciò non avvenga, cioè la manipolazione, è raccogliere e pubblicare i documenti che ne costituiscono la forma primaria. E ciò che ha fatto ad Alpina Fabra Bignardelli. Nel volume, cronaca dei partiti e movimenti monarchici in Sicilia, atti e documenti 1946-1961 raccolti dal dottor, purtroppo scomparso, Domenico Bignardelli. È un quindicenno di storia attenente all'obiettivo proposto, questo fa la Bignardelli, che è sicuramente nuovo, nuova a questo compito, che ha assolto senz'altro meritatamente, con perizze e pazienza. Se noi riflettiamo sulla vicenda storica italiana, partiamo da Vittorio Emanuele II, vi chiedo e mi chiedo io stesso, è riuscito lui a incarnare questa unità, questa complessità della nazione, oppure è stato semplicemente un sovrano che ha interpretato alcune linee e non la totalità. Ecco, il discorso che faccio, e lo leggo ad un altro personaggio, sembra un salto di qualità, un salto, un volo pintarico, ecco lo leggo ad un altro personaggio. Sapete chi ha incarnato l'unità nazionale, o chi è stato condizionato ad incarnare l'unità nazionale e quindi quello che doveva essere sovrano è stato Garibaldi. Garibaldi era stato l'unico riferimento, positivo o negativo, io non do un giudizio di valore, attenzione, perché questo non mi... al di là, io ho molte riserve su Peppino Garibaldi, ve lo dico in maniera chiara, però non do un giudizio di valore, però, tu anche di più, ecco, però Giuseppe Garibaldi è stato quello che doveva essere sovrano nel nostro paese. Ecco, uno degli elementi critici della nostra, di questa monarchia, questa monarchia sabbauda, una monarchia che in un certo senso è stata vissuta, questo dobbiamo dirlo anche con molta onestà intellettuale, è stata vissuta come qualcosa di estraneo rispetto alla realtà, anche se ci sono stati momenti in cui c'è stata una certa partecipazione, ma la estraneità della monarchia sabbauda rispetto al paese, il suo essere vista come un qualche cosa che veniva a sovrastare una realtà che era altra, ne condizionava i risultati. Nel referendum del 1946 gli inglesi e americani e persino i sovietici, se ne, scusate il termine, strafregano se il referendum sarà vinto dalla monarchia o dalla repubblica, tanto che non intervengono. Quello che interessa agli inglesi e agli americani è che l'Italia stia schierata nel campo occidentale, ecco perché interverranno pesantemente nelle elezioni del 1948. Del resto, come potevano mettersi d'accordo nel 1946 se gli inglesi erano monarchici e gli americani repubblicani? E quindi c'è questa interpretazione storiografica degli eventi che mi trova consensiente e la questione di De Gasperi, la libertà di coscienza. Dossetti subito dopo questa proclamazione di De Gasperi della libertà del voto secondo coscienza scrive una lettera furiosa contro De Gasperi dicendo tu vuoi fare vincere la monarchia. Per fortuna Giulio Andreotti ha svelato perché De Gasperi nel 1946 decide il voto secondo coscienza. Perché De Gasperi sa che la gran parte della base democristiana è monarchica, mentre le istituzioni del partito, la classe dirigente del partito è repubblicana. Quindi se De Gasperi prende posizione per la repubblica corre il rischio di perdere la base. Se prende posizione per la monarchia corre il rischio di perdere la classe dirigente. In ogni caso corre il rischio di ritrovarsi in un partito spaccato. E naturalmente De Gasperi astutamente sceglie invece la linea del voto secondo coscienza. Ecco, questo per dimostrare come sia complessa la storia con le sue interpretazioni e come sia complessa anche la vicenda dell'Italia. E come sia complesso anche per esempio quel commentare che è l'abolizione della famosa norma transitoria che impediva l'ingresso dei Savoia in Italia. Io penso che molti, mi piace pensare che la terra dei morti monarchica, cioè quei monarchici che sono in un altro mondo, oggi preferirebbero ritenersi ancora vittime di questa norma transitoria piuttosto che vedere le danze di un aspirante a re ballerino. Perché l'avventura di questo libro, che è nato insieme naturalmente ai documenti che lei possedeva, abbiamo inserito anche, non solo i documenti nei, totalmente nei, ma abbiamo inserito appunto dei documenti posseduti nell'archivio Bignardelli del marito, saluto molto il mio amico Fabrizio che è qui presente e per me è un valore doppio, questa presenza, perché Bignardelli appunto aveva avuto il compito da alliata di scrivere la storia del partito monarchico, di scrivere questa storia. E guardate che questo è un lascito che ad Alpina ha adempiuto in modo mirabile, non solo ricavando dal suo archivio e mettendo insieme in modo cronologico tutto quello che qua dentro c'è, ma anche volendo aggiungere, questa è sua idea, e mia naturalmente condivisa, mette insieme quei documenti storici del partito monarchico nazionale, in maniera da fare intravedere una linea ideologica, culturale, territoriale, varia, che tutti possono naturalmente discutere quanto vorranno, ma sulla storia bisogna innanzitutto manifestare rispetto, bisogna per quelli che non vengono nemmeno citati, è possibile mai che nei libri ufficiali, spesso ufficiali, pubblicati dalle assemblee o dalle grandi e paudate case editrici, nemmeno viene pubblicato questo con il gazzetto ufficiale e con lo stemma sabaudo il decreto di Umberto che sancisce l'autonomia siciliana, questo si chiama omissione, questo si chiama offesa e soprattutto si chiama attacco alla verità, misconoscere, una riga a volte per dire una cosa fondamentale, e non fu un atto estorto come qualcuno ha scritto, no signori, perché il discorso dell'autogoverno di popolo e giustizia sociale che giustamente Ingrazia sottolineava è un discorso che seguirà Umberto nel suo pensiero politico per tutto il suo esilio, che si manifestava, lo sanno alcuni, soprattutto nei messaggi di fine anno che erano mandati al popolo italiano e nei messaggi che venivano mandati alle varie organizzazioni, enti, eccetera, dove risultava il suo passaggio di ispirazione politica. Dopo il dotto commento fatto dai relatori importantissimi non ho davvero niente da aggiungere, devo solo ringraziarvi in maniera profonda perché avete saputo interpretare queste poche righe, questi fogli, questo ricordo di mio marito che sapevo che voleva pubblicare. Ringrazio il pubblico che tanto pazientemente ha ascoltato, mi è venuto vicino affettuosamente, ringrazio la signora Tricoli che ci ha permesso di stare in questo ambiente così bello, così elegante, così raffinato e grazie, grazie a tutti, anche un po' come se fosse il nome di mio marito perché lui ci teneva tanto a questo e non l'aveva potuto fare, così mi sembra di avere assolto un suo desiderio e siccome io credo, sono certo che lui è qua, in mezzo a noi. E vi dice grazie.